La donna e la terra sono più simili di quanto si possa pensare. In entrambe germoglia la vita, entrambe sono elemento imprescindibile per la sopravvivenza del genere umano. Ma nel distretto di Nguinji, in Kenya, le donne vivono una condizione difficile, eppure hanno un ruolo fondamentale nell'eliminare la fame. Anche quest'anno sostieni crescita. Con il tuo aiuto la loro vita può migliorare. Dal 21 al 28 ottobre dona al 45506 2 euro con un sms, 2 o 5 euro con una chiamata da rete fissa. Grazie.